Si svolge oggi in Germania il vertice dei ministri dell'interno del G7. Anche se in agenda c'è la guerra in Ucraina, il summit è stato l'occasione per un bilaterale fra il ministro italiano Matteo Piantedosi e la collega tedesca Nancy Fözer sul tema migranti. Secondo fonti di Berlino l'incontro si è tenuto in un clima di partenariato e due ministri hanno sottolineato di voler collaborare sul tema della migrazione e della sicurezza nella cornice delle regole europee. Rispondendo ad una domanda sul possibile ruolo della Germania in una mediazione fra Italia e Francia la ministra tedesca ha ribadito il suo impegno ad avere una soluzione comune europea. Impegno sottolineato anche da Piantedosi. L'Italia non intende procedere da sola, ha assicurato il nostro ministro.